buonasera tutti quanti questa sera fa abbastanza caldo giovedì 2 giugno 2022 alle ore 2 0 4 minuti ci sono ci sono 21 gradi 21 gradi signori signori fa ancora caldo fa ancora caldo siamo ancora in estate e c'è pulmoni in giro al 2 del mattino non si sa come vai però vabbè sarà l'avranno rubato vi auguro una buonanotte tutti quanti ci sentiamo domani vi ricordiamo a tutti quanti che c'è la festa la birra ma ci sono meglio quindi se volete andare approfittate ciao a tutti bacini bacini viva la figa che dirà benedica ciao a tutti che non c'è in giro nessuno nessuno c'è in giro sono noi